Buonasera, benvenuti e benvenuti alla seconda edizione del TG6. Avviso di garanzia per il manager dell'Asla di Pescara, Vincenzo Ciamponi, anche il coinvolto nella maxinchiesta che riguarda gli appalti per i servizi extra ospedalieri psichiatrici. Intanto ieri pomeriggio è stato ascoltato come testimone il presidente della regione, Marco Marsilio, e venerdì invece sarà la volta del responsabile della cooperativa La Rondine, Domenico Mattucci. Vediamo il servizio di Paolo Rezzetti. Si allarga l'inchiesta della procura di Pescara su presunti appalti truccati nella gestione dei servizi psichiatrici extra ospedalieri dell'Asla di Pescara. Ieri infatti è stato notificato un avviso di garanzia anche al manager dell'Asla, Vincenzo Ciamponi, che fa seguito agli arresti che c'erano stati mercoledì scorso, quando finirono in manette i due responsabili della cooperativa La Rondine, Luigia Dolce e Domenico Mattucci, ed il direttore del Dipartimento Salute Mentale, il dottor Sabatino Trotta, che qualche ora dopo si tolse la vita nel carcere di Vasto. L'avviso di garanzia per corruzione notificato a Ciamponi sarebbe un atto necessario a consentire lo svolgimento dell'incidente probatorio sul materiale informatico in possesso della procura pescarese, che presto sarà oggetto di perizia. Ciamponi aveva firmato l'aggiudicazione della gara d'appalto non prima di aver espresso delle perplessità riportate nell'ordinanza delle GIP del Tribunale di Pescara Nicola Colantonio. La ASL però precisa in una nota che la sottoscrizione del contratto con la cooperativa La Rondine è avvenuta unicamente a seguito dell'istruttoria condotta e condivisa dagli uffici competenti e previa consultazione del legale di fiducia della ASL. L'inchiesta però potrebbe non solo avere risvolto in campo sanitario, ma anche politico. Trotta, oltre che psichiatra, era infatti esponente di Fratelli d'Italia già candidato alle scorse regionali e come tale aveva rapporti con l'entourage del presidente Marsilio, che ieri è stato chiamato a rendere chiarimenti ai magistrati in qualità di testimone. Marsilio si è intrattenuto un'ora e mezza con i PM Anna Benigni e Luca Sciarretta ed ha ribadito la correttezza dei suoi comportamenti e di quelli dell'ente che rappresenta. L'impressione è che i magistrati vogliano scavare oltre la superficie del presunto intreccio corruttivo, che sarebbe legato all'appalto da circa 11 milioni di euro per i servizi psichiatrici extra ospedalieri, andando a verificare anche eventuali episodi corruttivi e connessioni con il versante politico frequentato da Trotta. Il ministro della Salute Roberto Speranza sarà a Teramo lunedì 19 aprile per inaugurare il nuovo centro vaccinale nel campus dell'Università all'Unite. Infatti saranno vaccinate 3.800 persone al giorno, grazie a 16 postazioni operative, 7 giorni su 7. Si tratta di uno dei più grandi hub vaccinali universitari in Italia. Tania Bonici Castelli. L'Università di Teramo si trasformerà in uno dei più grandi centri vaccinali universitari italiani. 3.800 vaccini al giorno, 16 linee vaccinali operative, 7 giorni su 7. Si parte da lunedì 19 aprile e per inaugurare l'avvio di questa attività arriva il ministro della Salute Roberto Speranza, che con la sua presenza intende premiare un esempio virtuoso di sinergia tra istituzioni, Università, ASL e Comune di Teramo. Trattasi di una più importante perché segna una sinergia tra la ASL, l'università, le altre istituzioni con cui noi intratteniamo dei rapporti costanti. E soprattutto, ecco, il fatto stesso che il ministro Speranza sarà qui il giorno in cui inizieremo proprio a fare vaccinazioni in questo luogo, il 19 nella tarda martinata di lunedì, evidenzia l'importanza dell'evento e soprattutto la vicinanza anche delle istituzioni a questa realtà regionale. Nel campus di Unite non ci si vaccinerà solamente all'atere della campagna di vaccinazione di massa, è prevista tutta una serie di eventi culturali ed informativi a servizio della popolazione nell'ottica di Teramo, città universitaria. Questo grande hub vaccinale universitario, però non ci sarà solamente la vaccinazione, ma anche incontri culturali, eventi. Sì, perché appunto è una campagna, quindi non è soltanto la semplice siringa. Insomma, noi vogliamo informare e, come dire, anche un po' formare le persone, perché è il compito dell'università, ma non solo, quindi anche dei momenti di rilassamento, di intrattenimento, perché lo spazio del campus ce lo consente, anche nel rispetto del distanziamento. Ci sarà un punto ristoro importante, quindi sia per gli operatori, che saranno tanti, insomma se si devono vaccinare circa 3.500 persone ogni giorno, insomma gli operatori hanno bisogno anche di rifocillarsi. Un piccolo problema continua però ad esistere ed è quello dei trasporti. Raggiungere facilmente l'università con le parco rimane ancora un obiettivo da centrare. Su questo entra in gioco il comune di Teramo, che promette il potenziamento delle corse. In questo senso, anche in funzione proprio del potenziamento della campagna vaccinale, oltre a dare un supporto logistico, organizzativo appunto per le sedi, come comune di Teramo, come città capoluogo, metteremo a disposizione anche un servizio di trasporto pubblico locale dedicato, ovviamente che verrà definito e delineato d'intesa con l'ASL, nel senso che dovrà essere coordinato con gli orari della vaccinazione, con i tempi, con le modalità, anche con le categorie che verranno vaccinate, proprio appunto per consentire di rimuovere qualsiasi ostacolo, anche quello eventuale della distanza, per poter effettuare una vaccinazione la più ampia possibile e che non lasci nessuno da solo. Veniamo ora al bollettino Covid. Quest'oggi in Abruzzo sono 174 nuovi casi, 21 morti, 302 guariti. Diminuiscono i pazienti ospedalizzati. La provincia dell'Aquila è ancora quella più colpita. 174 i nuovi casi di Covid oggi in Abruzzo e quanto emerge dall'analisi di 3.238 tamponi molecolari e 1.987 test antigenici, per un tasso di positività complessivo del 3,3%. Il più giovane tra i contagiati ha un anno, il più anziano ne ha 94. La provincia più colpita, dove si registrano 89 casi, è quella dell'Aquila, dove a preoccupare è soprattutto la zona della Marsica. 54 i casi nel Terramano, 13 e 6 rispettivamente nel Chietino e nel Pescarese. 6 dei contagiati invece provengono da fuori regione e per altrettanti sono in corso verifiche per accertarne la provenienza. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 21 nuovi casi e sale a 2.269. Dei decessi odierni, 8 sono avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. 302 sono i guariti. Attualmente in Abruzzo vi sono 10.261 positivi accertati, 149 in meno rispetto a ieri. Lieve callo degli ospedalizzati. 553 pazienti, 16 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in terapia non intensiva. 59, 5 in meno rispetto a ieri, ma con 6 nuovi ingressi, in terapia intensiva. Mentre gli altri 9.649, 128 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Inaugurati oggi pomeriggio all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, 7 posti letto per la terapia subintensiva che portano a 15, il numero totale di letti nel reparto di malattie infettive. Direttore, oggi si chiude un cerchio. Abbiamo un nuovissimo reparto di terapia subintensiva a disposizione della città. Sì, oggi si completano con questi ulteriori 7 posti letto la dotazione di subintensiva all'interno del reparto di malattie infettive che costituirà un'ulteriore offerta di intensità assistenziale per i pazienti Covid. Soprattutto noi qui faremo ventilazione non invasiva quando ci sarà richiesto. Speriamo che pochi abbiano bisogno di questo, però se accadrà noi siamo pronti. Quindi si potranno i pazienti sottoporre a questa ventilazione non invasiva con i caschi, le cipappe e così via. Quindi è un'ulteriore dotazione tecnologica dell'ospedale San Salvatore e un piccolo patrimonio di tutta la città dell'Aquila. È chiaro che oltre ai posti letto che abbiamo recentemente attivato di subintensiva presso l'ospedale di Avezzano, questa serie di posti letto qui all'ospedale San Salvatore va a completare questa offerta, questa disponibilità di posti appunto per tutti i pazienti della provincia, ma anche qualora dovesse arrivare da fuori provincia o da fuori regione. Manifestazione dei pubblici esercizi aderenti a Confcommercio questa mattina a Pescara per chiedere di riaprire le attività chiuse, lo sapete, per la pandemia. Vediamo. E ora di dire basta, voi chiedete date certe sulla riapertura? Beh, le certezze sono fondamentali per dare a noi il giusto tempo per poter riaprire. Dobbiamo fare tutti i programmi di sanificazione delle nostre aziende, ma la cosa più importante è che vogliamo tornare a ripristinare la mise en place nei locali, a rimettere in piedi il bar, a rimettere in piedi tutto quello che è l'attività di pubblico esercizio. La nostra società ha bisogno di ottimismo. L'ottimismo deve partire da notizie certe, possibilità di poter investire nel prossimo futuro, nell'immediato per il prossimo futuro e poi trovare qualche soluzione attraverso un sistema che venga anche segnalato dagli governanti. Ha una moratoria bancaria che consenta a noi, perché il ristori di per sé è soltanto un piccolo pagliativo, moratoria bancaria per investimenti di almeno 30 anni, occupazione solo pubblico gratuito e poi per ultimo noi sono otto mesi che siamo fermi per il principio che inquina paga, quindi la tara abolite per tutte le attività di pubblico esercizio. Questa manifestazione si svolge in maniera tranquilla, serena, come devono essere tutte le richieste che si fanno al governo o alle istituzioni. Io sono qui per testimoniare la mia vicinanza a tutte queste attività che da troppo tempo non lavorano, non svolgono attività, non guadagnano. E' un rischio troppo grosso quello che sta correndo la città di Pescara, perché Pescara è una città che vive di commercio e non può permettersi che le attività rimangano chiuse per troppo tempo. Oggi ci troviamo in una situazione tale per cui si può cominciare a guardare avanti con la riapertura delle attività, con la massima sicurezza, con le massime precauzioni, perché è possibile farlo, ma dobbiamo cominciare a ragionare così. L'appello al governo che oggi viene da questa piazza è anche il mio appello. Ripartiamo in sicurezza, con tranquillità, con tutte le precauzioni possibili, ma non facciamo in modo che queste attività muoiano, perché se muoiono le attività commerciali nei centri delle città vuol dire che muoiono le città. Fermi con il 90% registrate di perdite di fatturato, il 2020 è andato al 90% di perdita, il 2021 si sta però traendo alla stessa situazione perché una festa come un matrimonio in modo particolare ha bisogno di una programmazione di 6-12 mesi, trovandoci oggi al 13 di aprile, non conoscendo protocolli né regole né date di riapertura, tutte le cerimonie del 2021, quindi spostate dal 2020 al 2021, si stanno spostando il 2022, vale a dire per somma due anni di fermo. Noi siamo collegati a questa linea Oreca che in pratica è la nostra risorsa, le aziende forniscono gli alberghi, diamo la possibilità adesso di dare anche monoporzioni e con queste monoporzioni dove ci sono stati fatti questi investimenti noi non riusciamo in pratica a distribuirli dovute alle chiusure di queste strutture e vogliamo tornare anche noi a lavorare ecco come si urla in piazza, ormai in tutte le piazze d'Italia, per questo motivo siamo qui, vogliamo il lavoro. Cambiamo argomento, il Tribunale del Riesame di Chieti ha rispinto la richiesta di dissequestro dell'impianto industriale della Esplodenti Sabino proposto dalla proprietà. Lo scorso 21 dicembre una esplosione all'interno di uno dei manufatti provocò la morte di tre operai. La Procura di Vasto ha aperto un fascicolo, è scritto sul registro degli indagati titolari e funzionari della società che si occupa di smaltimento di materiale esplodente di varia origine, anche bellica, disponendo poi il sequestro probatorio dell'impianto anche per reati ambientali e amministrativi. Successivamente alla tragedia la Prefettura di Chieti aveva sospeso le licenze. Il Riesame Chietino ha bocciato il dissequestro spiegando tra le cose che l'impianto industriale risulta essere pienamente funzionante con conseguente concretizzazione, ha detto il Riesame, del rischio di reiterazione delle condotte delittuose in questione. Nelle scorse settimane la vicenda era ritornata alla luce dopo le proteste dei lavoratori della fabbrica che avevano chiesto di poter tornare al lavoro con una protesta in piazza davanti alla Procura Vastese. Successivamente erano stati avviati i provvedimenti per concedere la cassa integrazione agli operai. Ancora cronaca, maxi sequestro dei finanzieri di Pescara che hanno fermato due autovetture sulla A14 tra i caselli di Valdisangro e Pescara. A bordo hanno trovato 1,2 kg tra eroina e cocaina. Alfredo Primante. Lo stupefacente viaggiava sulla A14 in due vetture che proprio per il loro procedere appaiate hanno insospettito i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Pescara. Le due vetture si sono incontrate nei pressi del casello autostradale di Valdisangro, una proveniente da sud e l'altra in attesa per poi proseguire insieme. Una volta fermate dalle fiamme gialle escortate verso la caserma di Lanciano, le unità cinofile hanno scoperto la droga. 680 g di cocaina e 520 di eroina nascosta all'interno del bagagliaio appositamente modificato di una Audi A3, posta poi sotto sequestro assieme a telefoni cellulari e materiale per il confezionamento delle dosi. Queste avrebbero fruttato sul mercato dello spaccio lungo la costa adriatica oltre 150 mila euro. Il Corriere della Droga, un 28enne del Foggiano, è stato arrestato mentre le altre due persone a bordo delle vetture fermate sono state denunciate a piede libero. Operazione della polizia di Chieti che ha arrestato e posto ai domiciliari un 25enne campano accusato di aver messo in atto una truffa ai danni di un'anziana teatina. È stata una rosa tatuata sulla mano a tradirlo, così un 25enne campano, presunto autore di una truffa ai danni di un'anziana di Chieti Scalo è stato individuato, arrestato e posto ai domiciliari dagli agenti della squadra mobile di Chieti. La polizia ha anche notificato al giovane il foglio di via obbligatorio per tre anni dal territorio comunale. Secondo gli inquirenti l'indagato sarebbe riuscito a farsi consegnare da una 85enne teatina 4 mila euro fra contanti e gioielli spacciandosi per suo nipote. Modus operandi era quello di effettuare una telefonata alla vittima lasciandole intendere di essere il nipote e lasciando che la donna dicesse lei il nome del nipote per rappresentarle la necessità di una somma di denaro per una spesa urgente da effettuare e riferendo di incaricare una persona per il ritiro di questo denaro. Una volta capito il consenso della persona anziana, anche molto allarmata da questa circostanza, si è recata a casa della persona dove ha prelevato il denaro, perlomeno quello che la persona è riuscita a racimolare e che evidentemente aveva a casa. A quel punto ha avanzato ulteriore richiesta della consegna anche di gioielli e in questa circostanza la vittima ha consegnato i gioielli che aveva in casa, tra cui anche la fede nuziale. Partendo chiaramente dalla descrizione molto particolare di questo soggetto che in un primo momento era stato descritto come una persona di sesso femminile perché ne aveva l'aspetto e anche soprattutto gli abiti e un particolare quello di un tatuaggio di una rosa sopra il dorso della mano. Quale questore della provincia di Chieti, atteso anche il verificarsi di una serie di episodi simili a quello per il quale oggi abbiamo arrestato l'autore di una odiosissima truffa in danno di persona anziana, è quella di non cadere facili trabocchetti con telefonate dove appunto vengono segnalate delle necessità, un incidente, necessità di economiche, di avere soldi per fare fronte a spese improvvise. Quindi l'appello è di tenere alta l'attenzione e di contattare sempre al 112, al 113 le forze di polizia in modo da garantire con il nostro intervento l'evitare, verificarsi di questi episodi odiosissimi in danno di persone anziane. Lo sport, partiamo dal calcio di Serie B, in Casa Pescara tengono banco i sei casi Covid rilevati nel gruppo squadra, si tratta di cinque giocatori, Macin, Setterro, Meonga, Busellato e Del Favero e un componente dello staff, l'osteopata della squadra, Trivarelli. Domani è previsto un nuovo giro di tamponi e la partita di sabato con la Virtus Entella è a rischio. Il responsabile dello staff sanitario Biancazzurro, il professor Vincenzo Salini, ieri sera ha fatto il punto intervenendo nella trasmissione Replay. Ascoltiamolo. Innanzitutto è normale che purtroppo, presumibilmente, questa, diciamo, tra virgolette, infezione può essere venuta dall'esterno, perché come sappiamo durante le settimane scorse ci sono stati i raduni della nazionale e quindi probabilmente attraverso ciò abbiamo avuto questa infezione, perché per fortuna finora eravamo stati non toccati direttamente o comunque solo marginalmente da questo problema. Il minister ha fatto più di un tampone e è risultato sempre negativo. Ha avuto questa lipotimia un po' forse dovuta al fatto della, come diceva anche il direttore Bocchetti, a cambio di temperatura improvviso, un po' al fatto che durante la settimana aveva febbre, mal di schiena e quindi tutto insieme. Per fortuna lui è risultato sempre negativo. Ritornando al discorso di prima che facevate con Fazzi, secondo me sicuramente è molto probabile che si configuri l'idea che ci sia alla fine un cluster a Pescara, perché ormai vediamo, vediamo mercoledì, però oggettivamente siamo abbastanza, io sono abbastanza pessimista, considerando che la squadra è stata in ritiro per una settimana. Io penso che la AS, se qualora si dovesse manifestare un'ulteriore positività o più positività nei tamponi di mercoledì, io ritengo che realisticamente c'è una buona possibilità che la AS possa intervenire. Sicuramente la AS non penso che dia l'interdizione per due giorni, perché in realtà l'interdizione per due giorni cambia poco. In realtà se il problema c'è, è un problema che abbiamo visto con l'Empoli, l'Empoli ha saltato più di una partita. Sì, la squadra in bolla, teoricamente, devono eseguire tamponi di 48 ore, allenamento individuale, poi i negativi possono eseguire anche allenamenti di squadra. Sicuramente diventa molto complesso organizzare gli allenamenti e soprattutto in questo periodo del campionato, in questa stretta finale, dove magari ci sono anche atleti infortunati, quindi diciamo che dal punto di vista logistico la gestione diventa molto più complessa, secondo me. L'aspetto medico per questi ragazzi è relativo, anche perché tutti i positivi che stiamo contando in squadra sono tutti o asintomatici o paucisintomatici, quindi o con qualche linea di febbre, o con un po' di tosse, quindi da quel punto di vista siamo assolutamente tranquilli. Dal punto di vista sportivo, sicuramente questa ammazzata è arrivata nel momento meno corretto per quel che ci riguarda. Serie C, il Teramo è tornato a lavorare dopo la sconfitta dolorosa di Cava dei Tirreni. Momento delicato per i biancorossi che domenica attendono la visita del Bisceglie e con una vittoria, secondo il centrocampista Domenico Mungo, il diavolo sarebbe praticamente certo di disputare i play-off. Non stiamo finendo bene, però se facciamo quasi una vittoria, con una vittoria dovremmo essere nei play-off. Diciamo che è il nostro obiettivo e quindi dobbiamo fare la partita della vita domenica per portare a casa i tre punti e dire che siamo quasi nei play-off. Non è mai facile giocare dopo parecchie partite e essere sempre pronto e infatti sono deluso anche per quello. Ovvio che mi aspetto di più. mi ero ripreso bene dopo la finestra di mercato di gennaio e purtroppo c'è stato l'infortunio e dopo l'infortunio e qualche acciacco non sto facendo come dovrei fare. Sono deluso per questo perché vorrei dare tanto di più. Siamo partiti anche oltre le nostre aspettative, sì. Siamo partiti molto bene e forse nelle ultime partite stiamo facendo di meno punti di quelli che potevamo fare e quindi magari sembra anche… però fino a sei o sette partite fa mi sa che c'eravamo quasi gli stessi punti dall'andata e sono le ultime partite che ci hanno abbassato tra virgolette un po' la media e quindi diciamo che è l'ultimo periodo che non stavano andando come dovrebbe andare. Dico che con tre punti siamo nei play-off. Lui dice che magari siamo ottimisti per questo perché se facciamo una vittoria siamo quasi nei play-off e magari pensa questo. Io penso che domenica dobbiamo fare la partita che tra virgolette ha fatto a capito di noi, la partita della vita, per cercare di essere quasi automaticamente nei play-off perché con i tre punti siamo nei play-off e quindi è il nostro obiettivo di entrare il prima possibile nei play-off e dobbiamo farlo. Dobbiamo finire bene per arrivare nel miglior modo possibile nei play-off, ovviamente. Non è che andiamo a fare i play-off tanto per, se no è inutile andarci. Dobbiamo finire e fare bene le ultime tre partite per arrivare nel miglior modo possibile nei play-off. Della mia sicuramente perché stavo giocando nel mio ruolo, stavo giocando, posso dire, bene. Dopo l'infortunio e continuo ad avere problemi, sì, mi ha influito tanto perché continuo ad avere problemi perché il collaterale, anche se ti passa, ti fa sempre male in qualsiasi movimento. Quindi posso dire di sì, però non è una scusante, nel senso che nessun giocatore in nessuna partita arriverà la domenica e sta sempre al 100%. Però sì, posso dire di sì. È giocata domenica la prima giornata del campionato di eccellenza. Sono partite bene l'Aquila e Chieti, mezzo passo falso per l'Avezzano, il resoconto nel servizio. Chieti e l'Aquila partono con il piede giusto, stecca l'Avezzano. Questa è in sintesi la prima giornata del mini campionato regionale di eccellenza, con sette squadre in corsa per l'unico posto in Serie D e con le tre compagini citate, favorite per la vittoria finale. A fare la voce grossa in particolare è il Chieti di Alessandro Lucarelli, che rifila la manita al Lanciano in un derby che mancava da 15 anni, anche se l'ultima volta si era giocato in ben altre categorie, C1 ed era il 2006, e chiaramente la presenza del pubblico. Per i Neroverdi è stato il modo migliore di tornare a giocare, gare ufficiali, partita sbloccata da Fabrizi e poi è salito in cattedra Galli, autore di una doppietta. Nel mezzo, a metà ripresa, la rete di Imperatrice, che ha riaperto il match solo per pochi minuti, prima del terzo gol a punto di Galli. Nel finale hanno arrotondato Rodia e l'ex Nerostellati Spadafora. Un 5-1 che è un messaggio al campionato di contro un Lanciano partito col piede sbagliato che ha bisogno di crescere, ma tanto tempo non c'è. Solido l'inizio del torneo anche dell'Aquila, la prima giornata opponeva all'11 di Roberto Cappellacci quella del fino Flacco Porto, autentica sorpresa della prima parte, poi annullata della stagione. Una sfida, insomma, tra le squadre che meglio avevano approcciato al torneo d'autunno. A fare la differenza il solito Miciche, con un gol per tempo, il primo realizzato sul rigore, il secondo con un chirurgico diagonale mancino. Una partenza in scioltezza, prima del turno di riposo, in concomitanza di una seconda giornata nella quale, d'altro canto, i pescaresi di Guglielmo Bonati tenteranno di riscattarsi nel sentito match contro il Chieti. Al Dei Marsi, invece, ha sognato il colpaccio fino ad una manciata di minuti dalla fine la Renato Curiangolana, passata in vantaggio con Casati alla fine del primo tempo. Avezzano in difficoltà fino all'83, quando l'autogol dell'esperto Mucciante ha regalato la parità ai marsicani che si sono svegliati e in pieno recupero hanno ripetutamente sfiorato il gol partita. Avezzano, già costretto alla vittoria domenica nel confronto tra Deluse e Lanciano, mentre l'angolana riceverà il capistrello che debutterà dopo il turno di riposo in apertura. Visto come l'andamento della partita, alla fine avevamo fatto la bocca su questa vittoria, però chiaramente è un punto che ci sta, lo prendiamo per quello che è peccato, perché dopo sia l'autorete e poi l'espulsione, ha cambiato un po' la partita. Probabilmente non è il risultato che mi aspettava alla fine qui in sala stampa e anche negli spogliatoi, però abbiamo giocato soltanto noi. L'angolana ha tirato una volta in porta, mi pare, ha fatto golle, quindi alla scuola posso rimproverare poco. Sono scattati i play-off nel volley in A2, la secortora ha sfiorato l'impresa a Siena, domani si disputerà a gara 2, in A3 parte col piede giusto l'Abbapineto che conquista una vittoria schiacciante in 3-7 contro la Versa. Il servizio di Sergio Zappaloni. Un assietto pazzesco dal cuore infinito rischia di fare il gran colpo a Siena da dove c'è battuta per 15-13 solo al tie-break e di nuovo senza Cantagalli dal quarto set in poi. Da un gruppo così straordinario è lecito attendersi un miracolo da gara 2 di questi quarti di play-off domani sera alle 19 ortona. In A3 è ritrovato un superpineto che travolge un pur insidioso Aversa che nelle ultime 11 gare ne aveva vinte ben 10, compresa quella proprio contro l'Abbap pursa in terra campana dove si andrà per gara 2 degli ottavi domenica 18 alle 17. Con queste premesse c'è solo da avere fiducia totale, felice e bravo Rosichini. Abbiamo vinto il primo round di una serie che però secondo me sarà estremamente lunga e sofferta perché Aversa è veramente una buona squadra che gioca un'ottima pallavolo. In B maschile con recupero perso al tie-break ad Ancona l'alba adriatica passa la seconda fase in B1 femminile il gran derby a pannaggio secondo tradizione del forte altino che liquida 3-0 le cugine tiatine e sale al primo posto prezioso per la seconda fase. Le Nero Verdi si affidano agli altri 5 recuperi da effettuare i due allenatori a fine gara. Noi ci giochiamo in guarda con Cisterna andata a ritorno perché è la squadra che abbiamo lì davanti dobbiamo andare a Trevi poi mercoledì adesso andiamo a Casal dei Pazzi con un altro squadrone e vediamo cosa riusciamo a fare. Oggi c'è stato veramente abbiamo fatto un passo indietro però te l'ho detto anche c'è anche queste circostanze qua è un continuo è tutto l'anno così va bene a me lo stesso. E' solo soddisfazioni perché le ragazze da quando sono arrivato io hanno lavorato tantissimo e si meritavano queste soddisfazioni e di prendersi un po' di rivincite sono contento per come è andata la partita contento per i tre punti da quello che mi hanno detto contento per il primo posto in classifica e adesso ci aspetta un mese di duro lavoro. Torniamo a occuparci della questione Covid del Delfino perché ci sono degli aggiornamenti che sono stati diffusi pochi minuti fa situazione in costante monitoraggio in Casa Pescara con i biancazzurri che continuano a lavorare in modalità individuale visto il manifestarsi di sintomi in alcuni giocatori prima della seduta di allenamento sia lo staff che i calciatori si sono sottoposti a esami sierologici e subito dopo a un nuovo giro di tampone rapido al momento non ci sono nuovi casi di positività al Covid-19 con la situazione che resta di cinque calciatori e un membro dello staff isolati secondo le direttive federali e ministeriali domani previsti i tamponi molecolari se sarà possibile come da programma si svolgerà una doppia seduta di allenamento al Delfino Training Center e ora prima di chiudere gli aggiornamenti gli appuntamenti per quanto riguarda il calcio a cinque ferma la A che giocherà l'ultima di campionato il primo maggio ma il 28 aprile in programma il recupero che deciderà il primo posto tra Acqua e Sapone Unigros e Pesaro in A2 la Tombesi vince a Castelfidardo ed è dentro ai playoff in A femminile chiude al secondo posto la stagione regolare il Montesilvano dopo aver battuto per 3 a 2 il Cagliari e questa era la nostra ultima notizia la prossima edizione del telegiornale alle ore 23 ma prima alle ore 21 c'è Proteramo di Jacopo Forcella grazie e buona serata grazie a tutti i nostri spettatori Phone